ragazzi eccoci qui con un'altra recensione oggi vi voglio parlare di un'ombra nell'acqua è un romanzo abbastanza recente l'autrice Katherine Stilman l'ha pubblicato Longanesi costa circa 18 euro e a 413 pagine allora la storia è quella di due novelli sposi che in viaggio di nozze trovano una sacca loro vanno in viaggio di nozze a Bora Bora il sogno di ogni persona che si sposi e trovano questa sacca che inizialmente decidono di non aprire quando invece il destino, il fato gliela ripropone non sanno resistere alla tentazione e decidono quindi di aprirla dentro questa sacca ci sono dei diamanti, dei soldi, un milione di dollari, una chiavetta USB e un telefono insomma è inutile dire che la loro vita non sarà più quella di prima un po' perché non riescono a resistere all'impulso di accendere il telefono e cercare di capire cosa è successo un po' perché quando trovano la sacca esattamente sotto la sacca c'è un piccolo aereoplano che è sommerso dentro al mare quindi ha avuto sicuramente una varia al motore o comunque è successo qualcosa che ha ucciso le persone schiantandosi nel mare quindi diciamo che decidono appunto di tenersi questi soldi sapendo che sono soldi pericolosi sono diamanti pericolosi, sarebbe meglio non accendere quel telefono però la curiosità è umana quindi il telefono viene acceso e insomma nella vita di due novelli sposi va a crearsi una crepa che piano piano diventa una vera falla nel matrimonio perché si prendono decisioni che andrebbero viste insieme ognuno seguendo un proprio percorso vi dico semplicemente che non è quello che sembra tutto questo libro è ammantato un pochino dal non è quello che sembra allora il mio voto su Anobby è stato di tre stelle perché? perché questo thriller tiene abbastanza incollati alle pagine nel senso che uno vuole sapere un po' come va a finire però io l'ho vissuto sempre con una certa ansia nel senso questa è scema, continuiamo a dire questa qua è scema, fa di quelle cose che io non farei mai e diciamo che la protagonista decide di prendersi dei rischi che secondo me non so, forse ci sono persone che se li prenderebbero di sicuro però io al suo posto non mi sono mai presa io mi sono trovata spesso a chiudere il libro perché ero proprio scocciata cioè dovevo un attimo pensare ad altro e non a quel libro che stavo leggendo perché la vivevo proprio male cioè le sue decisioni mi sembravano troppo avventate un altro motivo per il quale ho dato tre stelle a questo libro è che sfioriamo un pochino l'assurdo nel senso che tutta la situazione è al limite dell'assurdo e soprattutto nello nodo finale si toccano secondo me proprio i limiti della realtà e quindi questo purtroppo gli ha un po' segato le gambe più che un romanzo, un thriller sembra quasi pronto per essere la sceneggiatura di un film sappiamo che comunque magari nei film rispetto a determinati romanzi le situazioni vengono un pochino gonfiate per creare un po' più di aspettativa in quelli che guardano i film insomma si crea un pochino più di aspettativa mentre nei libri secondo me si può evitare di ricorrere a questi trucchetti quindi per questo motivo il mio voto è stato di tre stelle è comunque magari una lettura che potete fare sotto l'ombrellone perché è comunque un libro che vi coinvolge tira fuori un pochino la curiosità del lettore l'attenzione per questi motivi posso anche consigliarvelo però sappiate che i thriller secondo me ci sono alcuni che reggono molto di più la storia anche oggi vi ho parlato di un libro e quindi adesso io vi saluto grazie della visualizzazione ciao